Dopo una manna scelta di file, a termine delle quattro specie di esigenza dei nuovi del cuore, attività che noi studiamo e che piace a tutti in Italia, clienti o clienti, veramente è una delle cose più belle che noi facciamo. Ricordo solo che l'anno scorso avuto molto più di 2 milioni di votanti. Si è aggiunto in questo racconto per noi il vittorio. Io devo dire la verità che erano anni che non ho lavorato con un testimone o un partner così positivo. Qualunque posto, qualunque persona mi ha incontrato, in qualunque attività io mi ha incontrato a una forza, una positività, una incerenza, un coinvolgimento tale che un giorno dopo l'evento mi chiamano tutti e mi dicono la ragazza, cioè un'ottima, 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 un'ottima. Lo dovremmo centellinare, centellinare un pochino. Nel percorso che lui farà abbiamo tre tappe per noi importanti. Partiremo da Orminio, toccherà il 26 giugno Orminio, che è una delle città premiate, del polo premiato lo scorso anno. Una seconda tappa, anche all'ospedale pediatrico, pausibile con l'ospedale oncologico pediatrico che abbiamo aperto, un casino di indolattata, forse più toccante per noi, attività che l'ottore ha già fatto con noi in altri luoghi dei mesi passati e poi un'ottima, un primo di luglio, a Magia, capitale europeo, la cultura quest'anno, dove anche noi abbiamo un programma abbastanza fatto. Come loro, grazie, grazie Vittorio, grazie Marco, grazie Milito e buon tour.